Il Brasile è un paese che ha tutte e tre le caratteristiche per essere importanti per Enel Green Power. Ha un'incredibile ricchezza di risorse naturali nel campo delle rinnovabili, ha una domanda energetica in forte crescita sostenuta sia da un ciclo economico ma soprattutto da una grande crescita demografica e poi ha un sistema regolatorio e legale che è comprensibile e stabile. Quindi è un paese per noi molto importante, continuiamo a trovare molta potenzialità di crescita in tutte le tecnologie e questo ci piace molto e come tutti i grandi paesi in una crescita tumultuosa presenta alcune criticità, sostanzialmente sono quelle di una relativa maturità delle aziende che lavorano nel settore, di una difficoltà di tipo infrastrutturale e anche se vogliamo di un tipo di burocrazia ancora poco avvezza a questa nuova fonte energetica. Tutte cose che pensiamo si potranno risolvere nel tempo e sulle quali stiamo lavorando con molta dedizione.